Ehi Lara, perché non rimandi a domani? Tanto quello che cerchi sarà sempre qui. Ne dubito. Secondo mio padre questo manufatto non solo crea degli schiavi, ma viene anche controllato grazie a una particolare parola. Non è il genere di cose che si lasciano in giro, eppure non lo trovo. Forse lo ha lasciato in Tailandia. Qual è la parola magica? Non riesco a capirlo. Dove lo hai nascosto? Che diavolo è stato? Un indizio bello grosso. Grazie a tutti.